Rispetto ai giovani segnalo due cose, una tendenza a fare degli sport estremi che magari non era propria delle generazioni di un tempo e poi anche un uso costante, continuo, direi quasi invasivo dello smartphone. Queste sono due considerazioni sicuramente corrette e per quanto riguarda per esempio gli sport, soprattutto ad alta intensità, magari anche il sollevamento pesi, in alcuni casi riscontriamo anche in soggetti giovani che magari eseguono degli esercizi non in maniera adeguata o perché non sono adeguatamente eseguiti, perché non vogliono farsi seguire, quindi in maniera impropria. Il problema principale parte quando non c'è un adeguato percorso. In alcuni casi possiamo ritrovarci anche a produzione di scale in soggetti giovani, soprattutto a livello lombare ma talvolta anche a livello cervicale. A livello cervicale, quindi parliamo soprattutto di cervicalgia, spesso di natura muscolo-tensiva, lo abbiamo invece talvolta per alterazioni posturali. Studi scientifici hanno proprio dimostrato che l'utilizzo continuativo degli smartphone possa portare ad una cervicalgia. Quindi bisogna anche in quel caso... Perché si sta piegati sempre col collo. Esattamente, quindi la parte cervicale risulta essere alterata in termini di postura, non c'è una corretta fisiologica curva e questo può portare... Diciamo, le vecchie generazioni stavano di più all'aria aperta, anche il giocare, era giocare per strada, il modello ragazzi della via Pall, è un modello che sta... Regredendo, purtroppo sta regredendo spesso anche l'utilizzo dei videogiochi e l'utilizzo, come posso dire, eccessivo, perché i videogiochi sono sempre stati nel passato recente, però ultimamente si nota sempre di più una minore ricerca dello stare all'aria aperta, che ovviamente, a maggior ragione, in una regione come la Calabria, sarebbe sicuramente consono e adeguato.